Grazie alle mancanze che ho avuto, che ho subito, perché ho subito delle mancanze abbastanza importanti durante ogni mia relazione, soprattutto la mancanza di verità, perché mi sono ritrovata ad avere sempre delle persone che non hanno avuto il coraggio di dimostrarsi per quello che sono. Adesso ho imparato a stare da sola, mi voglio molto bene, cosa che una volta non mi piaceva, mi faceva anche un po' paura stare da sola. Invece credo che questo sia un valore aggiunto, solo che il problema è che quando ti abitui a stare molto da sola, poi diventa un po' più difficile fare entrare qualcuno nella propria vita. Insomma, per ora sto bene così, diciamo. Ma sei riuscita a rimanere amica dei tuoi ex amori oppure no? No, di nessuno dei due, di nessuno dei due perché sai, poi da più in alto cadi, più male ti fai e in entrambi i casi io sono caduta da molto in alto perché ero innamorata veramente di queste due persone tantissimo, ho sempre creduto a loro, ma alla fine della fiera lo so che sembra molto strano perché sembrano due personaggi completamente diversi, però secondo me sia Gianni che Rasa alla fine con me si sono dimostrati allo stesso identico modo, cioè due persone che non hanno avuto il coraggio di dimostrarsi per quello che realmente sono. Insomma, sono delle persone che non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi per motivi diversi e quindi sono fatti della stessa essenza che è quella che a me non piace. Insomma, io da un uomo ho bisogno soprattutto di verità, di lealtà, di complicità, di comprensione. di comprensione. di comprensione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.